E' stato schilato un documento che è il documento della città. Questa mattina insieme alle forze sindacali, all'amministrazione, alla regione siciliana abbiamo redatto una lettera aperta da inviare al Governo nazionale. Al Governo nazionale per dire a Renzi che a Gela i problemi non sono stati risolti. I problemi ci sono e si stanno presentando in tutta la loro drammaticità. Quindi in modo forte la città di Gela sta mandando questo documento in modo congiunto per far sapere che Gela ha intenzione di riprendersi il proprio futuro e che i problemi si devono risolvere da subito.